La storia al peperone di oggi con TorinoGi.it si chiama Eurofunghi e lui è salvatore e quest'anno hanno davvero portato una novità apprezzatissima tanto che si spiegano le code chilometriche davanti al loro stand. Ma qual è questa novità? Dunque quest'anno ci siamo inventati i funghi porcini trifolati con un clu di tè di peperone di carmagnola. In più abbiamo fatto anche le bruschette sempre col trifolato e il peperone. E poi c'è il piatto classico che sono i funghi fritti che vanno alla grande. Che vanno sempre alla grande, sì. Se vi abbiamo fatto venire voglia di mangiare avete ancora un attimo di tempo per venire qui a Pepero e noi vi salutiamo da piazza dei sapori sempre con TorinoGi.it